...dell'azione treno, il treno regionale 67-56 di Trenitalia, previsto in arrivo da Potremoli e diretto a Parma alle ore 14.51, oggi non è stato effettuato quindi anche voi avete spento il fuoco? si, questo si ce ne sono un sacco i pompieri che sono là in fondo dall'azienda basta basta Grazie a tutti. Questa è una signora o una persona che sta... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.